Il Paradiso, spoiler dal 23 al 27 Clara si tira indietro dalla gara ciclistica. Da lunedì al venerdì, alle ore 16 e 5 e circa, va in onda su Rai un litro mattissima soap opera Il Paradiso delle Signore. Ambientata nella Milano degli anni 60. Le anticipazioni TV delle puntate che verranno trasmesse dal 23 al 27 gennaio 2023 rivelano che ci saranno dei travolgenti colpi di scena e dei momenti molto intensi. In particolare, Maria e Vito si scambieranno finalmente il tanto agognato primo bacio. Ludovica chiederà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento a quattro e Gemma inizierà ad essere corteggiata da Carlos. Clara Boscolo, Elvira Camarrone, è fortemente delusa per essersi tirata indietro dalla competizione ciclistica ed il suo umore è diametralmente opposto a quello di Maria Pulisi, Chiara Russo.